La giornata dell'epifania dedicata ai tamponi per gli studenti marchigiani fra i 5 e gli 11 anni si è conclusa con 5.494 test effettuati e 420 alunni risultati positivi, ovvero il 7,6% dei ragazzi presentatisi ai 16 hub allestiti dall'Asur Marche e dunque risultato contagiato, è entrato in isolamento domiciliare e ha scongiurato il pericolo di mandare in quarantena l'intera classe se trovato positivo una volta tornato oggi sui banchi di scuola. Tamponi e notifiche di contagio arrivate dopo una lunga mattinata di serpentoni di auto in fila sotto la pioggia con famiglie in compagnia dei figli a potenziale rischio contagio. Già perché la campagna di tamponi era dedicata specificatamente a ragazzi di scuole primaria e secondaria che presentavano sintomi o sospettavano il contatto diretto con un caso positivo. Va da sé che l'impossibilità a controllare questa categoria piuttosto che gli asintomatici ha portato anche tanti soggetti sani a togliersi il dubbio con il tampone gratuito. A Pesaro però ci sono state ore di coda col drive tamponi di via Lombardia che ha creato una colonna di auto che ha risalito via Paganini fino a via Ponchielli nonostante la relativa rapidità di procedura e il gran lavoro dei volontari di protezione civile. Un'attesa degenerata in caos perché di fronte a un afflusso di persone andato oltre le previsioni una cinquantina di macchine sono state respinte attorno alle 12.30 nonostante l'orario indicato di chiusura fosse quello delle 14. Proteste e tensioni sedate dall'intervento dei carabinieri a far da pacere. La fotografia della giornata sul territorio provinciale è stata di 512 tamponi effettuati a Pesaro che hanno rilevato 48 casi positivi, 589 tamponi al Codma di Fano con 39 positivi, 297 a Urbino con 12 positivi, 80 a Sassocorvaro con 12 positivi. In provincia di Pesaro Urbino si faranno test anche domani a Cagli, comune che, come quello di Urbino e Cantiano, ha deciso di riprendere le elezioni il 10 gennaio. Intanto a Pesaro, studenti a parte, il punto drive tamponi di via Lombardia amplierà i suoi servizi rispetto all'attuale situazione canalizzata nei pomeriggi di martedì e giovedì. Dal 16 gennaio, su indicazione di Asur e area vasta 1, il punto tamponi sarà aperto anche la domenica.